Volete crediti per sniperare eh? Allora passate da fifacoin.com e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 5% di sconto, link in descrizione Lo meno io questo, altro che Ragazzi prima di incominciare sotto in descrizione socialdashop.com dove potete acquistare le vostre magliette a prezzo bassissimo Io ne ho qui un paio, quelle del Paris Saint Germain edizione limitata me le sono fatte mandare un bel po' bianca appunto di Mbappé Sempre con scritti dietro Mbappé, bellissima E poi anche quella rossa, quella del portiere che è tantissima roba anche questa qua Sempre con scritto dietro Mbappé perché è così E infine, infine raga, oltre alla felpa del Paris Saint Germain sempre edizione limitata E i pantaloni che ho su della felpa, questa qui assolutamente ve la consiglio Questa qui c'ha proprio il pelettino che vi tiene caldo praticamente E vi stiamo dicendo che ho preso la maglia retro del Milan senza ovviamente scritto niente Ma probabilmente ci metterò su cacao o qualcos'altro perché questa è una maglia storica Quindi se volete ragazzi sotto in descrizione socialnishow.com e adesso iniziamo il video Dai ragazzi allora questo qua, questo qua lo spengo la tv Questo spengo la tv Oddio, ok non ho guardato ragazzi È un 86 Vabbè sempre meglio di niente dai Sì Rigu Mamma mia, tanto meglio di niente Mi aspettavo, sinceramente mi aspettavo molto peggio Fai bene a non guardare Vai, primo pacchettino così Oh, walk out, vai, forza Cos'è? IF Francese, DC Uh, l'englet L'englet 84 Vabbè Non ho chiesto niente Non ti tieni pack per i tots Ma vai, io spacchetto tutto Ah già è vero, poteva essere un bappé Oddio Ah, poteva essere anche Benzema però, eh Eh, non solo un bappé Che è questo qua? Nace un bono per l'SBC Allora, adesso l'obiettivo ormai è diventato Cercare di trovare più roba possibile buona Chi è questo qua? Eh vedi, è un 84 Va bene, va bene, va bene Va bene Asenfo Forza Eh, triggerino Sì, va bene triggerino 3000 crediti, grazie Stavo per la prima pacchetta Oh, walk out Non l'avevo visto neanche Normale Spagnolo, COC David C Isco Va bene 89 Bono per l'SBC Va bene Ma sta facendo Ma che cazzo fa? Non so ragazzi Dovrei riscattarla O no Dovrei riscattarla o no La WL E anche un walk out Perché non lo so Boh, settimana prossima ci sono i Ragazzi sono usciti i pacchetti Devo aprirli subito Subito Dai, primo, primo, primo Forza, eh Forza ragazzi Ho l'allergia Ho tutto Schippiamo Schippiamo Via Via, forza Vediamo chi troviamo Sono usciti Cano Vidal Jonas Dani Alves Via, via tutti Via tutti Via tutti Nella lista Vai, vai, vai Secondo pacchetto Secondo pacchetto Forza C'ho l'allergia Se non è walk out Io schippo Perché sono limitati Via, via, via Schippiamo Schippiamo Forza, forza Dai che troviamo un Messi O Ronaldo Tauven Paiè Via Via, via Sidney Via, via Forza Vai Metodo Cina Al prossimo facciamo il metodo Dai Non è walk out Raga, basta Basta Sto FIFA Basta Ruffier Dai Via Tutti Consiglie far fan Nella lista Basta Li sto sniperando Ma non troviamo niente Cioè che cavolo devo dirvi Pazzesco La casetta Vabbè, dai Via Questi qua Eh, ma secondo me Sono da aprire con più tranquillità E fare il metodo Sono da aprire con più tranquillità Questi Altrimenti Niente 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 Di niente Di niente Di niente Però Cioè ragazzi 20 euro di pacchetto Ma com'è possibile Un if E basta Com'è possibile Cioè non ha senso Giocatori 2.4% Ma una pigliata per il culo Questa È una pigliata per il culo Incredibile Cioè 2.4% 3.1% Viva points Vai Sì 3.1% Nei loro sogni 3.1 Oh Workout Vai Dai Vai Toc Oh No Basta Chiedo pietà Chiedo pietà Basta Godin Ma chi sono questi Un altro Un altro la casette Vazzo aia Kanji Mortacci ti scarto Akanji Mortacci tua Mortacci tua 3.1% Apriamo un altro Vai Back to back Back to back Back to back Raga dai Back to back Oh if Dai 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 qualcuno Spagnolo Portiere Oh signore Oh signore mio Schippiamo sto Scempio Non ne voglio parlare Ragazzi Company Carrasco Via via Subasic Bono per l'SBC E questi qua Li buttiamo via Raga mi sa che qui Apriamo uno di questi qua Prime Ma Mi sa che è finita per noi Ho dato tutto quello che potevo Raga Sto gioco infame Per lui solo le lame Solo le lame Ragazzi Tanto questi pacchetti qua Non ci sarà manco Uno schifo Dello schifo Dello schifoso L'Aido L'Urido Un altro L'Acasette Ma che cazzo è Ma che dove siamo La sagra dei L'Acasette Qui Meno dell'1% Ma per favore Ma cosa vuoi che troviamo qua In questi pacchetti De merda Ma schifatutto Ma schifatutto Sto schifo L'Aido L'Urido Barzagli Teniamolo Teniamolo E mettiamolo nella lista Trasferimenti Vai Buona Ragazzi Io spero che questo pacco opening Rapido Veloce Vi sia piaciuto Noi ci vediamo sicuramente Per i Tots E poi per altri video La squadra sbustata Deve tornare Sono praticamente preso Una settimana di pausa Tra virgolette Però Adesso torniamo carichi Con i video Tranquillamente Poi ci sono alcune SBC da fare Vediamo un po' Quali fare Consigliatemi Sotto nei commenti Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Noi ci vediamo A un prossimo video Un saluto dal Cina E bella lì Brrrrrrrrrr